Il mio nome è Federico Cerelli e sono il capo enologo dell'azienda Castello di Gabbiano. L'azienda Castello di Gabbiano ha avuto varie proprietà e adesso l'azienda è in mano a una multinazionale australiana che produce vino come attività principale a livello mondiale. La cosa importante è che tutto il team che fa parte dell'azienda è un team completamente italiano. L'azienda Castello di Gabbiano è un'azienda certificata sostenibile, ha molto improntato negli ultimi anni tutti gli investimenti anche su un filone di sostenibilità. La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale che invece di venir fatto da un depuratore che agisce tramite sistemi diciamo meccanici di pulizia delle acque viene fatto da delle piante. Siamo riusciti a avere un risparmio anche energetico importante perché abbiamo molta meno azione meccanica nella depurazione delle acque.